il è stato battuto da ducco calè sempre per l'invito in campo con giovani gli a finandi che subito a sinistra peduco la mette in metto e non ci arriva di un centimetro palla per calè sbaglia il passaggio di qui l'andri, palla per calè, esce, c'è, pallo Duco, tirè parte duco, gol vantaggio certo per l'eterno il passaggio di calè è tutto regolare, sembrava pallo duco calè, duco la palla è fuori riparte la Lazio Barsa, Dania la mette in mezzo, deviazione perde palla, contropiede della Lazio contropiede della Lazio, uno contro uno, il tiro, palo crema clamorosamente il palo, Giovannini palla in mezzo, esce Giovanini, traversa della Lazio, uscita di Ottania, scarica il destro nel mezzo, esce gli Aquilandi, trazione palla a duco, si ferma, viene colpito un paio di volte ma mantiene il processo palla, gli Aquilandi la mette in metto, Tirelli l'arriva Palla la Lazio, Vanessa, benvenuta Nel mezzo, Vanessa, vanessa, avanza, la mette nel mezzo, uscita di Giovannini Caccio d'angolo ancora, scusate, in favore della Lazio, 10.40 al termine la botta, il palo battuta, avanza, ha spazio, Giovannini si oppone, esce Maione, però recupera palla la Lazio palla nel mezzo, uno contro uno palo esterno calè calè nel mezzo per duco, dimenticata da tutti duco carla a duco tunnel a Piagiotti la mette in mezzo e papera di Giovannini 3,17 metta nel mezzo e c'è il pareggio 2 a 2 CF per le terie, 2 Lazio, caccio a 5, 2 riparte subito la Lazio e parata di parata doppia di Giovannini presse il passaggio nel mezzo capisce tutto il capitano Pasos è un 3 contro il 1, un 3 contro il 2 Pasos per gli affinandi la palla è in mezzo esce Chirelli, calcio palla nel mezzo Maneli la stoppa Pasos allunga il piedino, la botta esce 2 di poco Finandi evita il calcio l'angolo però perde palla la recupera Vanessa Vanessa per Vanelli la botta di Giovannini benvenuto Vanessa tagna da solo dimenticata da tutti la botta da Giovannini la mette in calcio la mette in calcio 2 l'arbitro palla nel mezzo Giovannini 7.25 al termine la prima vantaggio 3 a 2 qui a Scandizio la palla al mezzo è dimenticata da tutti i grieco Giovannini il passaggio si libera ancora è grande ancora l'intervento lì la parte opposta ancora è grande l'intervento lì tutto per tutto Vanessa Vanessa supera in velocità Carla Duco serve ancora libera la giocatrice e la mette dentro un pallo finale il gioco è grande è grande è grande è grande ci prova è brava è sciantarsi la patita la 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 la